Buongiorno, ore 7, sella in forno, patate novelle, a dopo. Non poteva mancare la nostra fantastica insalata di pondo, meschissima come tutte le mattine, piccolo spicchio di banco, eccoci qua, eccoci qua, a tra poco per il sesso. Vedete il fior di latte inizia a uscire, la sella si indora sempre di più e le patate sono a buon punto. Signori, eccola pronta in tutta la sua opulenza. Fior di latte che sgorga da tutti i buchi, meravigliosa. Signori, il giallo dove andremo in vacanza lo risolviamo la settimana prossima. Vi dico subito che le quotazioni isolane scendono mentre quelle della costiera salgono, salgono, salgono. Speriamo bene che la settimana prossima saprete la soluzione. Ecco, ma nel frattempo domani a mare dove vai? Sì, sì, lasciamo unire. Lasciamo unire? Sì, sì. Perché non è una località scistica? No, quella è una cosa. Ascemonire perché domani a mare, con due ore di traffico e un tappeto di carne umana sulla spiaggia si va a scemonire proprio più a mare. Intanto, tra una cosa e l'altra, invece tu che cosa fai domani? Vado a morire, ascemonire. Buona domenica! Mi piace! Buona domenica! Buona domenica! Buona domenica!